Abbiamo appena concluso il congresso GBR organizzato da Deore e devo riconoscere assolutamente l'importanza che ha avuto nell'aggiornamento professionale della categoria che ci riguarda anche se riconosco che si tratta di argomenti piuttosto super specialistici ma per chi si dedica alla chirurgia orale in particolare alla chirurgia orale complessa devo dire che è stato un evento molto formativo